E' una giornata importante. Accogliamo decine di studenti provenienti dai territori circostanti per illustrare nel vissuto e nel dettaglio la nostra offerta formativa, ma anche i nostri servizi e per aiutarli nei limiti delle nostre possibilità nel loro percorso di crescita e di scelta di vita universitaria. La Mediterranea offre un plafond di opportunità che avete potuto leggere in questo dépliant e quindi vi aspettiamo tutti, ma soprattutto iscrivetevi alla Mediterranea, aggiungi Mediterranea ai tuoi studi. La Mediterranea ha un'offerta formativa che va da agraria, architettura e design, economia, giurisprudenza, ingegneria, scienze infermieristiche, scienze sportive e scienze umane, che è in grado di accogliere tutti i ragazzi che vogliono formarsi qui e quindi costruire, partendo da qui, il loro futuro. Grazie a tutti.